Mario Balotelli Ciao Mario, benvenuto Questa notte l'aspettavi Come stai? Tutto bene, tutto bene, dai Ma perché fai passare il messaggio Che hai paura di me, che non è vero Per lui sei un fratello, un amico Che adesso non vuole più andare via da te Chi è Enoch per te invece? Enoch è nelle due famiglie che io ho Ho molti fratelli senza togliere niente agli altri Ma è il ragazzo che è cresciuto con me È il mio amico, è il mio sangue È il mio fratello Guai che me lo tocca, guai che me lo sfiora Guai che rompe le scatole Comunque Enoch ti saluta la mamma Ti saluta papà Ti saluta Abigail, Angel Prince Ti vogliono bene Dicono che stai facendo bene Te lo dico anch'io Riguardo a quello che è successo Che mi hanno raccontato Veramente mi hai scioccato Sei stato un grande signora Bravo Perché io probabilmente non avrei reagito così Ma sei stato un signore Mi ha dato un insegnamento di vita anche a me Veramente Enoch bravo Grazie